Di tutte le cose viste sui campi di battaglia della frontiera, il pilota è il predatore per eccellenza, veloce e agile, leggero ma devastante, perspicace, intraprendente e implacabile. Un pilota vede il mondo in modo diverso, una semplice parete diventa un'opportunità. Un pilota combatte in modo diverso, esperto in manovre diversive, anche il più grande svantaggio diventa una risorsa. Ma ciò che davvero distingue un pilota da altri soldati e macchine sul campo di battaglia è il legame con il suo Titan. Quando è collegato al Titan, può essere fermato solo da una forza superiore o da un suo simile. La frontiera è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Per anni l'IMC ha devastato terre, rubato risorse, inquinato e distrutto pianeti, esterminato chi cercava di resistere. Nonostante le recenti vittorie su Demetra e altri pianeti, c'è ancora molto da fare prima di sconfiggere l'IMC. Ora, come fuciliere della milizia, lui combatte per liberare la frontiera. La strada per diventare pilota è ancora rompita. Ma quando quel giorno arriverà, spera di esserne all'altezza. La strada per diventare pilota è ancora rompita, è ancora rompita, è ancora rompita, è ancora rompita, è ancora rompita. La strada per diventare pilota è ancora rompita, è ancora rompita, è ancora rompita. Scialuppa Marconi, unità medica, occupante. Occupante, fuciliere della milizia Jack Cooper, matricola 20-131. Stabilizzare, somministrati 250.000 panni di San Sufetano. Attenzione, effetti collaterali temporali, in house, intervigini, difficoltà di coordinazione. Siamo vicini alla trama di lancio. Siamo vicini alla trama di lancio. Scusa la radio! Sì! Scusate! Grazie a tutti. 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 Abbiamo 18 ore. 18 ore per sigillare l'arca e prepararla per il trasporto. Ehi Richter, lascia stare quei cadaveri, pervertito. Abbiamo da fare, eh? Non ci pagano per portare via i corpi. Andiamo. 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 Ci stiamo spostando al trasmettitore dell'IMC con coordinate 772981, ricevete? Sono il terzente Esso della seconda Fugilieri della Milizia, ricevuto, call. Ci raggiungiamo passando dall'impianto di Renato. Passo, ricevuto, fate attenzione, parte. Intrusi della Milizia, qui è il Generale Marder dell'Interstellar Manufacturing. Soprano, vi offro una breve amnistria. Arrendetevi a un ufficiale voo all'esercito dell'IMC. Se vi rifiutate, vi sarete eliminati. Lavoriamo per l'IMC, non per il rischio o i suoi mercenari. Lavoriamo per chiunque l'IMC ci dica di lavorare. Non so, una medaglia. Non mi interessa chi sta dando a tutti. Viste i suoi mercenari, il Generale Marder. Noi soldati veniamo pagati lo prezzo in extra mila. Lo che conta è che quel coso tra le montagne vada online come programmato. Venite che sia vero, se ne dico che già che l'Italipata... Il Generale Marder non è aperto. Anche le fitte. Allora la limizia, poi se non lo vedi. Soprano, vedi i suoi mercenari. 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 iniziali, i suoi mercenari. Soprano, vedi i suoi mercenari. Vi troveremo. Cettate le armi e arrendetevi immediatamente. Non opponete resistenza. Siamo autorizzati a usare la forza letale contro eventuali miliziani armati. Per l'ora sei, c'è un pilota della milizia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, pilota nemico! Attenzione, pilota nemico! Attenzione! 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 Lo vedo! È laggiù! È sparito! Squadra spostata! Serve supporto! Lo vedo! Lo vedo! È lontano! Lo vedo! È lontano! È giocattata! Lo vedo! Lo vedo! Squadra spostata! Supporto! Squadra spostata! Squadra spostata! Qualcuno vedrà il pilota! Non lo vedo! Non vedo il pilota! Squadra spostata! È giocatt Zack! Allo vedo qua! VORA? Il pilota perso, lo vedete? Negativo, non lo vedo. Supporto, supporto! Bersaglio perso! Bersaglio perso! Bersaglio perso! Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.